Non solo lattine, bottiglie e buste di plastica, insieme ai resti di picnic all'aria aperta consumati non proprio all'insegna del rispetto ambientale. I volontari delle guardie federiciane, che hanno trascorso la mattinata a Castel del Monte per ripulirne il territorio circostante, si sono imbattuti anche in scoperte piuttosto insolite, come i quadri ancora intatti e con tanto di cornice probabilmente provenienti da qualche villa nei dintorni e un'antica cisterna d'acqua divenuta con l'incuria ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Si sono mossi in più di trenta, soprattutto giovani, armati di sacchi neri di immondizia e tanta pazienza, dote che insieme all'entusiasmo diventa indispensabile per rimediare col sorriso all'inciviltà di chi non ha nessun rispetto per la bellezza di quei luoghi. Oggi questa giornata è stata concordata anche con la nostra amministrazione comunale, la nostra organizzazione ha portato su in totale un 33 persone, compresa la mia. consiste in due tipi di attività, una è la bonifica della pineta con la raccolta in un modo differenziato, a vete e quant'altro e poi l'altra è la messa in sicurezza di una cisterna che noi abbiamo scoperto nel mese di marzo. Nel mese di marzo quando l'abbiamo scoperta sembrava una cosa risolvibile subito, immediatamente, ma ha voluto il suo tempo. Di fatto siamo arrivati a luglio e oggi stiamo operando con la pompa idrover, togliendo l'acqua la prima cosa e poi dare una pulitura generale della parte interna. Si per si sembra una cisterna ma non si sa, i pensieri possono andare anche oltre. Il fatto che sia un tunnel mi lascia molto da pensare, però vediamo un po' cosa esce fuori. La pineta sottostante è già stata parzialmente bonificata, ma a settembre le guardie federiciane torneranno a ripulire quell'area spesso infestata da siringhe. Tra le priorità spiegano c'è la messa in sicurezza della cisterna al fine di evitare pericolosi incidenti che la scarsa visibilità serale potrebbe causare agitanti di passaggio. Ritorneremo di nuovo a settembre, rifaremo la restante pineta con la bonifica e in questo caso recupereremo anche le siringhe, se faremo in tempo oggi lo faremo oggi, se nel caso poi ritorneremo a settembre. Ma quello che ci interessa di più è mettere in sicurezza la cisterna perimetrando con i relativi paletti da segnale etica abbastanza visibile, così eventuali gitanti devono stare attenti a non finire dentro.